Sette settimane di colloqui ma nessun accordo tra il cancelliere Angela Merkel e l'opposizione sulla riforma del welfare arts numero 4. La coalizione di centrodestra che ha perso il controllo del Bundestrat era a caccia di appoggi in vista del voto in Parlamento venerdì e ora accusa la controparte di aver fatto fallire i negoziati. Si arriva a un punto in cui ci si accorge che non si cerca una soluzione reale ha dichiarato il ministro del lavoro e viene il dubbio che un tale accordo sia mai stato davvero voluto. Accuse che l'opposizione rimanda al mittente mentre boccia la proposta del governo. Troppo pochi 5 euro in più per quasi 5 milioni di disoccupati e sottooccupati. Tradotti fanno 364 euro al mese per ciascuno. Ce ne vogliono almeno 420. Alla base delle discussioni la richiesta della Corte Costituzionale per nuovi metodi di calcolo è un incremento del sussidio minimo per il sistema introdotto nel 2005 da Schröder.